Arrivano qui sul palco già pronti, già belli grittosi, Daniele ed Emanuele Borcellini. Questa Fiat Panda dei due Borcellini, dove vuole arrivare Daniele? Beh, sicuramente tornare allo stalletto, sicuro. Tornare allo stalletto. Forse ha carichi. La fiera partiamo, togliere. Forte rispetto, è una bella signora. Certo, certo. Ci divertiamo, speriamo tanti di quelle che volate? Mi ascolta alle notte. Quince. Quince. Dieci. E c'è tutto? Sì. 5, 4, 3, 2, 1... Dai, 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 dai. Dai, 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 dai! Sì! Sì! Visi in primo, dai, indietro, in personaggio, dal indietro, dal indietro, dita sinistra. Bravo, posto aiuto. Resto. Anche pezzi. Venta, da, in personaggio. Bravo. Vai, 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 treze, sti quaara. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti